Il quaderno Orientamento Personale mira al lavoro cognitivo in pazienti con decadimento cognitivo in fase moderata e avanzata. Il focus del quaderno è l'orientamento in tutte le sue sfaccettature personale, temporale e spaziale, ma non solo. Il quaderno contiene molti altri esercizi cognitivi che lavorano in modo olistico sul decadimento cognitivo, l'attenzione, l'affluenza fonemica e semantica, il ragionamento, le conoscenze semantiche, la memoria dichiarativa, il linguaggio e la concettualizzazione. Questo tipo di training è utile per i centri diurni o per i centri per gli anziani, per i pazienti con esiti neurologici, ma non solo. Per la semplicità della loro forma sono adattabili questi tipi di esercizi anche ai bambini in età prescolare. Il nostro consiglio di applicazione è su schermo, televisione, computer, tablet o la stampa a colori per permettere una corretta visualizzazione del compito proposto. Ogni esercizio può essere svolto in gruppo o in singola seduta e non richiede per forza la stampa del modulo in quanto la risposta può essere data dal paziente e commentata dal terapeuta. In caso di necessità di stampa il quaderno si presta anche alla stampa. Come ogni nostro quaderno al momento dell'acquisto vi verrà inviato il pdf del quaderno con tutti i suoi aggiornamenti. Il quaderno contiene più di 300 schede di lavoro e al momento dell'acquisto vi verrà inviato il pdf con tutti i suoi aggiornamenti in un unico file. Come ogni nostro quaderno anche questo verrà aggiornato nei prossimi mesi.